E' vero, siamo meno di quanto dovremmo essere e di quanto possiamo essere, forse già domani, se già domani ci diamo appuntamento, ci sarà questo caso domani, la Cigelle che ha detto che verranno, ok, parteciperemo, poi noi vi invitiamo tutti, venerdì, da noi, nel nostro ufficio, nella nostra sede, faremo un incontro con Mamadulì, con loro, con Paesà, per discutere che cosa è questa rivoluzione, la chiamiamo così e non ci spaventiamo di chiamarla così perché è stata una cosa...